Bella faccia, secondo me questi due youtuber sono noi spagnoli Ehi, bella faccia! Sono in un universo parallelo, colui con Servas Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video di Minecraft Yeee! Siamo su iPixel E dovrebbe esserci... Preparate i cannoni! Sparare! Come dicevo Kendall, sei forse qua? Bella faccia Oh! Bella faccia, dove sei? Wow, ma che nave gigante Ehi, sono qui, dove sei? Scusa Eh, bella faccia, stai lì sulla mia nave, vieni Ti ho visto! Ma è la tua nave questa? Sì, l'ho comprata ieri con i risparmi del porcellino Wow, ah, il porcellino? Mamma mia Sì, l'ho rotto Le palle di cannone ci sono Attenzione che sono pericolose, non le toccare La stiva... Bella faccia che sei a casa tua che entri ovunque, scusa Wow, veramente incredibile Senti, andiamo a costruire una costruzione del genere nella build? Eh? Eh, non sono capace io Vabbè, ti insegno io Forza, andiamo! Allora, corsaro dalla Barba Rossa Uno slime Un tornado Un trattore Un test? Io farei il tornado No, non mi piace Se facessimo uno slime o un cowboy Un cowboy? Mi piace il cowboy Un cowboy Un cowboy Cowboy Potremmo farlo su un cavallo allora, con il lazzo in mano Sì, ecco, pensavo proprio questo Sai fare il cavallo? Eh, ci posso provare Ok, intanto ti faccio il giardino Il giardino del cavallino Giardino Ma come lo chiamiamo questo cavallo? Il cavallo del giardino Eh, Fitzgerald Fitzgerald Wow, che nome Mamma mia Che fantasia Che fantasia, Kendall Allora, dobbiamo fare impennato, giusto? Sì Che sta impennando, eh Ok, quindi un cavallo impennato, imbizzarrito Imbizzarrito Furia cavallo del West Che mangia solo il caffè Caciocavallo così, ok Caciocavallo Quindi queste sono tipo le sue zampe, no? Ok, sì Uno Mi piace, sì, sì, sì E l'altra poi un po' più in giù, no? L'altra un po' più in giù Sì, perfetto Così, ecco Quindi tipo così ci sta? Così, sì Sì, così è perfetto Bravissimo Ok, ok, ok Dobbiamo mettere gli zoccoli però Il corpo come lo facciamo? Corpo di mille balene Corpo di mille balene Eh beh, sì Il corpo più o meno così, esatto Però lo dobbiamo fare da tre Perché altrimenti poi non riusciamo a fargli la testa Sì, 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 sì Ecco, la testa qui gliela vuoi fare? Come gliela vuoi fare? Qua La testa qua E gliela facciamo così Guarda, una bella testa lunga Una bella testa lunga Tipo così E poi gli dobbiamo fare anche la chioma dietro Nera tipo Sì Oppure marroncina Così Nera, perfetto Sì, 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 sì Bello Wow, è bellissimo per ora Ok, così, quindi Sì Poi gli facciamo un po' di muscoli Eh, lo dobbiamo fare muscoloso Perché i cavalli sono molto muscolosi Esattamente Ok I cowboy Fazzami cowboy, che bello Questa gamba però la facciamo più larga Più grande Sì, più larga Un po' più là perché sennò è troppo vicino Ecco, perfetto Allora così Forse è troppo vicino alla testa, così? Eh, sì, sì, hai ragione Eh, un pochettino Quindi, allora, così va benissimo Facciamo la criniera un po' più alta Ecco, fatto Così Sì Ricordati che dobbiamo fare il cowboy però, eh Uh, è vero, è vero, è vero Allora inizia Eh, inizia a farlo magari Sì Faccio la sella qua La faccio Allora, faccio la sella di lana arancione Perché la sella è arancione, mi sembra, no? Eh, sì Arancione Più o meno Arancione, così Ma tu che tipo di cowboy sei, Kendall? Ok, glielo ho fatto troppo grande adesso Aspetta Cavolo Faglielo un po' più in qua, guarda Più, più così Più in qua Perché sennò è troppo vicino alla testa Ok, ok Allora, faccio il cowboy Cowboy Yeah Che cowboy posso fare? Un cowboy cattivo Quello col lazio Oppure uno sceriffo potrei fare Uno sceriffo? Uno sceriffo? Cosa dici? Ah, sì, potresti fare uno sceriffo Ci potrebbe stare lo sceriffo? Sì, secondo me tantissimo Sceriffo Gerald? E guarda così Poi gli facciamo adesso qua Ecco lo zocco Perfetto Ecco qua Questo è il nostro cowboy Yeah Qui, così Ok, ora gli dobbiamo fare ovviamente anche i piedi di dietro Perché le gambe di dietro l'abbiamo bisogno Allora, il nostro cowboy sta venendo bene Ok Io sono bravissimo a fare la voce di Taz Lo sai? Quello del cartone animato Sentiamo Vai Wow, ma è proprio Taz della Tasmania Ok, allora Quindi così più o meno Uh, bello Ti piace? Vi facciamo la coda adesso Tipo così Il corpo Lo facciamo crescendo così Dai, secondo me Un bel leggendario c'è qua Sì, un leggendario c'è Vi devo dare un po' più di spessore Perché questo qui è un po' Io gli devo fare soltanto qua i pennacchi della coda I pennacchi Così più o meno I pennacchi Uh, bravo Mi raccomando Fallo bello, bello l'arco Il grande Sì, sì Bello, grande Perché i cowboy Più dettagli possiamo metterci I cowboy sono belli grandi ovviamente Sì, sono grandi e muscolosi Grandi e muscolosi Sì, sì, sì Ok, sembra un cioccolatino Molto bene Un bel cioccolatino Allora, facciamo la testa adesso Poi gli dobbiamo fare il cappello Quel sombrero gigante È vero Non è proprio un sombrero, eh È sempre un sombrero, però, eh Insomma Glielo faccio Sembra, ho detto sembra Insomma Insomma No, no, no Ecco, così Vediamo Tre minuti, ancora Abbiamo un sacco di Possiamo dormire un po' Possiamo andare a dormire Ok, perfetto Così Poi magari lo facciamo accrescere Come possiamo fare Guarda, io gli faccio il lazzo Uh, fa vedere Vediamo Oh, bello Ma cosa bello Ancora gli ho fatto soltanto il braccio Aspetta È carino Ti piace il mio sombrero? Un pochettino Eh, troppo giallo È più marroncino Più marroncino? Eh, troppo giallo paglia Lo faccio così Giallo paglia Ok, adesso Per fare il lazzo Come posso fare? Questo è il lazzo Posso fare con le fence, forse? Con le fence Sì Sì, 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 sì Eh, ma non me le fa mettere uno sopra l'altro Eh, devi fare così Guarda, devi mettere un blocco E poi lo metti sopra Qui di fianco Così, guarda Ah, ma ci metto la vita così Se il trucco c'è Ok, ok Ho capito Un barba trucco Va bene Allora facciamo il lazzo, guarda Wow, Kendall Che costruzione che abbiamo fatto Secondo me non ci batte nessuno questa volta È bellissimo Wow Abbiamo fatto tutto Questo è lo zio Jeff? Ma questo? Ecco la barba È un contadino Dai, uno Pup Però mi faceva ridere Pup Oh, il nostro Leggendario 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 Quanti, quanti le vedo? Quanti, quanti? Uno c'è dato un epico Un epico l'ho visto anch'io Un altro epico Due epico Due, tre epici Tre epici Vai Wow Oh, bello questo Insomma No, mi piace Che farsa Non mi piace la faccia Ma mi piacciono i vestiti Ok Gli do un ok Ma che bello è questo groghi Ma sbagliato Ti giuro Però mi piace Gli do un ok Sì, ma cosa c'è? No, mi piace Oh, bellissimo Bello Wow Eh, io qui Io gli do Good Sì, Good Good se lo merita tutto Wow 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 Carino questo È enorme Sì Un ok Perché la faccia non mi fa impassire Poi era troppo 2D C'ha una mucca Ha preso una mucca Ma cosa? Nel lazzo Nel lazzo Dai, è simpatico Sembra un bambino Un ok, dai Ok Ti dico Sembra un orso Sembra una moto Ma dai Un ok Carino Era bello Era bello Il Renz Che cos'è? No Ah, sì Ok Il saloon Sì, dai Un ok Questo? Una mucca Con il cowboy Il cowboy Bello Bello Good Questo è carino Molto good Abbiamo Con un sacco di punti Oh Guarda Si congela tutto E guarda io cosa c'ho I guardiani Aiuto C'ho i guardiani Aiutami Aiutami Kendall Oh mio Dio Aiutatemi Kendall Ci sono altri due YouTuber Nella lobby Cosa? Quindi due YouTuber Contro due YouTuber? Parte la sfida Vediamo YouTuber italiani O YouTuber Spagnoli Altri YouTuber Ok, ok Parte la sfida Via Yes Hanno accettato Hanno accettato la sfida Ok, un orso Già mi piace Un bug Una libreria Scegliamo veloce Che ho il super voto Così Abbiamo Facciamo quello di prima Crap, crap, crap Via Ok, perfetto Ok Il mare Dobbiamo fare il mare L'abbiamo visto prima La costruzione del cranio Lo facciamo possibile Ascolta Facciamo Un'isolettina Di sabbia Quindi di lana zalla Ecco bravissimo Col mare E con la lana zalla Ti piace? Sì Io mi sa che posso cambiare Posso cambiarlo il mondo? No Vediamo Non ce l'ho quello del mare Car miseria Non ce l'abbiamo Vabbè iniziamo subito Non ci possiamo far battere Oh mio Dio La sfida fra YouTuber Vai, vai, vai La sfida fra YouTuber Non possiamo perdere Candle Tu lo sai fare il granchio? Penso di sì Penso di sì Lo dobbiamo fare grande E puccioso Come quello che abbiamo visto Nella scorsa build Vediamo Il granchio ovviamente È lana rossa Perché deve essere Il rosso fuoco Il granchio Sì Ho anche terracotta La terracotta rossa È bella per il granchio Vediamo Terracotta rossa Ci sta Ci sta Ci sta Dici? Sì Così Però rosso è più acceso Lo so Però sembrano le chiele Del granchio Con le vere Guarda Ok, ok Vediamo Sembra tipo una ragosta Eh vedi? Sì Possiamo fare il Mr. Krab Mr. Krab No ma chi lo sa fare? Facciamo il granchietto Come prima Cioè ovviamente Non me lo ricordo Come era prima Però lo facciamo A modo nostro Ovviamente È simile Basta che gli fai le chiele Poi gli dobbiamo fare le chiele Con Con le scalinate bianche Bella faccia Secondo me questi due youtuber Sono noi spagnoli Ehi bella faccia Sono in un universo parallelo Coluico Servas E bella faccia Ehi Kendall Cosa stas facendo? Staranno registrando pure loro? Speriamo Così finiamo Nella televisione spagnola Vediamo Ok allora Io sto riempiendo qua di sabbia Tutta l'isola Bravissimo Bravo Bene Adesso Che dici? Una palma? La potremmo fare? Una palma? Certo Sì sì La possiamo fare come? Allora Prova a fare la palma Allora Tipo la palma della giungla Qua si vince Si vince questa volta Chissà gli altri youtuber Se sono bravi Youtuber contro youtuber Italia contro Spagna ragazzi Italia contro Spagna Italia Tirate fuori la bandiera I mondiali Po 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 Sembra di essere i mondiali Allora vediamo Gli faccio la bocca allegra così Uh perfetto Uh bellissimo Mi raccomando gli occhi storti Sì Gli occhi guarda lui Dovrebbe averli così Guarda Vediamo Vediamo Aspetta Eh sì Ce l'ha così Non ti muovere Non ti muovere Non ti muovere Hai ragione vai Così Gli ha così vero? Sì Così E se gliela puoi mettere una testa nera dentro? Sì Bravo Sì Allora testa nera Vediamo Perfetto Buon mio dio No ma è fantastico Forse le chele si può fare qualcosa di meglio Forse Eh prova prova se riesci dai Allora faccio così Io so solo che gli spagnoli non conoscono i nostri trucchi Abbiamo una sonnella manica bella faccia Guarda c'è le scarpe rosse Sono bellissime C'è le scarpe rosse Sì Non dobbiamo fare niente Faccio una pinna di uno squalo magari qua Eh lo sai fare? Così Allora ne facciamo tanti Non basta far così? Sì Non è una pinna? Ah ci sta Sì Così magari mettiamo un po' di azzurrino Una pinna gialla Una pinna gialla Sei un genio Bella faccia Sei un genio Bello Bellissimo Ma dove le prendi certe idee? Mi viene l'ispirazione quando ho un avversario fortissimo contro È bellissimo Vediamogli gli youtuber che hanno fatto Carino questo Carino Mi piace Un ok Un ok se lo merita Forza voglio vedere loro cosa hanno combinato Oh ecco lì Ma non c'è paragone Vabbè Vabbè Do un ok Un ok Sì Un ok Non c'è paragone Non c'è paragone Wow 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 questo è bello Bello Eh io qui Epico Epico sì Epico C'è da dire Epico Veramente Signor Crab Crab Un pochettino strano Però va bene Un ok Fatto bene Fatto bene Un ok sì Uh questo Wow questo Questo è cattivo guarda Ha le alghe addosso Sì Good Mi piace Good Fa paura Vediamo qua che cosa abbiamo Un Un granchietto Una medusa Cos'è un nano Eh no Mi dispiace Mister Crab Lo sapevo Lo sapevo Però non è fatto No è fatto bene Ah da davanti Sì Da davanti sì È carino Gli do un bel good Sì un bel good Secondo posto Secondo posto Abbiamo battuto gli youtuber Abbiamo battuto gli youtuber Perfetto Gigi Fantastico Gigi Questo se lo meritava Era bellissimo Ha vinto l'Italia Ha vinto l'Italia Yeah Wow Kendall Possiamo dire Abbiamo battuto Per la prima volta Degli youtuber Campioni del mondo Campioni del mondo Campioni del mondo Ragazzi Speriamo che questa Build battle Vi sia piaciuta Da me Da Kendall È tutto Ci vediamo domani Con un nuovo Fantastico video Ciao Ciao